La gratitudine è un'emozione positiva che ci permette di apprezzare ciò che abbiamo e di connetterci con gli altri. È importante esprimere la propria gratitudine, ma non basta solo questo. Ciao, io sono Charlotte, ho preparato questo video per te. Seguimi fino in fondo, ti spiegherò perché da sola la gratitudine non basta per vivere una vita piena, soddisgacente, una vita dove tutto può essere realizzato. Perché la gratitudine non basta? La gratitudine è un sentimento, non un'azione. È importante esprimere la propria gratitudine, ma non basta solo questo. Dobbiamo anche fare qualcosa di concreto per dimostrare la nostra gratitudine. La gratitudine può essere superficiale. Se la nostra gratitudine è superficiale, non avrà un impatto significativo sulla nostra vita o su quella degli altri. La gratitudine può essere egoistica. Se la nostra gratitudine è egoistica, la useremo per ottenere qualcosa in cambio. Come rendere la gratitudine più significativa? Agisci in modo concreto. La gratitudine è più significativa quando è accompagnata da azioni concrete. Possiamo dimostrare la nostra gratitudine facendo qualcosa di carino per qualcuno, aiutando qualcuno in difficoltà o semplicemente passando del tempo di qualità con qualcuno che apprezziamo. Sii autentico. La gratitudine è più significativa quando è autentica. Non dobbiamo fingere di essere grati per qualcosa che non lo siamo. Condividi la tua gratitudine. La gratitudine è contagiosa. Quando condividiamo la nostra gratitudine con gli altri, li ispiriamo a essere grati a loro volta. Ecco alcuni esempi di come rendere la gratitudine più significativa. Invece di dire grazie a qualcuno, potremmo fare qualcosa di concreto per aiutarlo. Ad esempio, se un amico è in difficoltà, potremmo offrirci di aiutarlo a fare un favore o a portare a termine un progetto. Invece di dire grazie ai nostri genitori, potremmo passare del tempo con loro o fare qualcosa di speciale per loro. Ad esempio, potremmo organizzare una cena a sorpresa o aiutarli con le faccende domestiche. Invece di dire grazie alla vita, potremmo fare qualcosa per renderla migliore. Ad esempio, potremmo fare volontariato per una, causa che ci sta, a cuore o semplicemente essere gentili con gli altri. La gratitudine è una virtù preziosa che può arricchire la nostra vita. Quando siamo grati, ci sentiamo più felici, più soddisfatti e più connessi con gli altri. In una sola parola siamo più consapevoli. Che la pace regni su questo mondo. Sii felice. Grazie a tutti.